La mobilità urbana a Lecce sta diventando sempre più complicata per chi usa l'auto. Con l'implementazione di piste ciclabili, zona traffico limitato e altre restrizioni, attraversare la città richiede ora 4 volte più tempo rispetto al passato. Eppure sembra che ciò non sia sufficiente poiché il consigliere De Matteis ha proposto di estendere il limite di velocità di 30 km orari a tutta la città. La domanda sorge spontanea. Perché non chiedere prima ai cittadini Leccesi se sono d'accordo con questa imposizione? Questo si chiede il consigliere Andrea Guido. Sono d'accordo quando si parla di zona 30 e si parla di sicurezza in città, però non sono d'accordo sui modi e sui luoghi che questa amministrazione ha inteso farlo. Una per tutte è quella zona 30 di Borgo Pace che per me è un vero e proprio floppo. Un vero e proprio floppo perché ogni giorno a qualsiasi ora vediamo la presenza di tir, di camion e di gente che dei limiti di velocità non se ne frega altamente. Il problema vero è che manca il controllo di questa città. Abbiamo una città totalmente insicura perché seppur da un lato questa amministrazione parla bene, però nei fatti è pari a zero. Potesse dare un consiglio a Salvemi nella sua amministrazione? Che consiglio dovrebbe? Ci sono dei luoghi, ad esempio Viale Lorè, che è una zona abbastanza centrale, una zona centrale della città e che lì è stata fatta una mezza zona 30. Mezza zona 30 perché è solo parte di Viale Lorè interessata e poi abbiamo una parte totalmente dove è una vera e propria pista di gara. Ecco, lì avrei visto meglio la zona 30.